oggi preparerò un tortino di zucchine ho inserito nella teglia le zucchine tagliate a fettine la mortadella il formaggio il sale un po di cipolla e poi ho ricoperto ho fatto diversi strati e ho rifinito con l'uovo sbattuto adesso ho inserito la mia teglia nel chitti forno e vado a coprire con il mio ottimizzatore 35 accendo a fiamma alta e faccio cuocere il mio il mio tortino 15 minuti vado a controllare il mio tortino di zucchine sta cuocendo il formaggio si è sciolto e l'uovo si sta dorando ricopro e lascio ancora cuocere per altri dieci minuti sono passati dieci minuti vado a controllare ed è ancora più cotto quindi ricopro sempre con l'ottimizzatore magic e cooker 35 faccio cuocere gli ultimi dieci minuti poi spegnerò la fiamma e lascerò in autocottura di autocottura il mio tortino è pronto e fumante e adesso lo girerò dall'altro lato e impiatterò il tortino di zucchine è pronto grazie alla prossima video ricetta se questa vi è piaciuta lasciato like e iscrivetevi al canale youtube magic e cooker sicilio e oltre ciao ciao alla prossima